A te che mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare parlando mi dicevi tutto questo e molto altro guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso perché non pensavo che ne avrei avuto un giorno il coraggio e mi sembrava di restare ferma al punto di partenza di non essere capace di bastare mai a me stessa di non avere una certezza di non essere all'altezza e invece pensa che sulla conseguenza di te so stai senza sei necessario e invece pensa se lo tieni chiuso a chiave guardando come se accontentarmi fosse la scelta migliore come fosse troppo tardi sempre per definizione come se l'unica soluzione fosse quella di restare come se l'unica soluzione e invece pensa come se l'unica soluzione nessuna conseguenza come se l'unica soluzione 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 come se l'unica soluzione